Salve a tutti ragazzi, sono... è tardino, diciamo volevo portare un video particolare nel mio canale e non riesco a trovare altre idee veramente. A parte il gameplay di Batman, che ora arriverà nei prossimi giorni, proverò a fare tante tante altre cose, tipo ora sto cercando anche nuove idee per i videoclip musicali, sto guardando su YouTube a parte il gioco di Nostale, così non so se portarvi un video a riguardo, ma non mi sembra neanche il caso, perché mi hanno fatto anche troppi video su questo gioco. Forse forse farò qualche gameplay così, un po' a scazzo, con l'altro account, visto che qui sono già abbastanza avanti. Sentite ragazzi, io... che dirvi? Per ora vi volevo mandare questo video per dirvi che stavo ancora in cerca di idee per il canale, spero di trovarle più presto. Purtroppo non posso più registrare con la PlayStation 3 perché mi darebbe abbastanza noia. Il game capture, visto che l'ho messo ora da una parte e non ho voglia di installare a rimettere mano. E niente, ci possiamo vedere in un prossimo video, mi raccomando, un pollicione in su, commentate e condividete questo video. Fate sapere se volete qualcosa o proponete idee su quello che potrei fare e portare sul canale. Ciao ragazzi!